Vestire la casa è la prerogativa offerta da un gruppo padovano di costruttori che oltre a proporre soluzioni all'assoluta avanguardia in termini di abitabilità ed ecocompatibilità garantisce con una apposita neonata agenzia consulenza ed affiancamento gratuito nel pieno rispetto delle esigenze quindi della personalità del cliente un'autentica sartoria della casa perché vogliamo porci come una realtà che si mette a servizio di chi deve comprare casa proprio come farebbe un sarto che si mette a disposizione per farci il nostro miglior vestito su misura quindi sc7 è la sartoria della casa che si mette a disposizione per realizzare il miglior vestito per la nostra abitazione offrendo sette servizi e che sono l'interior design l'arredamento le finiture a pavimento in particolare le finiture in legno le finiture a parete le realizzazioni architettoniche il live design e i tendaggi ovvero sia una volta acquistato l'appartamento copriamo la totalità dei servizi necessari a completare in tutto e per tutto l'abitazione oggi la casa è uno spazio intimo per la coppia o la famiglia dove l'arredo risulta minimal essenziale dunque ma estremamente funzionale grazie anche al fondamentale supporto della tecnologia chi compra casa spesso fa una scelta obbligata perché la casa è necessaria ma altrettanto spesso è un'esperienza complessa vorrei dire quasi drammatica perché inevitabilmente si deve ci si deve rivolgere a tantissime figure spesso diverse slegate tra loro senza che ci sia un filo conduttore che punti che faccia puntare tutti allo stesso obiettivo e spesso mancano anche il tempo l'esperienza necessario per riuscire a seguire tutto nei dovuti modi e questo porta inevitabilmente ad errori o addirittura a non arrivare al risultato dovuto oggi la casa è vista proprio come il bene proprio essenziale l'abitazione non è più quella che si vedeva una volta ovvero sia principalmente un investimento immobiliare un qualcosa che rendeva economicamente nel tempo oggi abbiamo capito che anche per la casa non è più così e pertanto chi compra casa vuole il nido il nido per sé per la propria famiglia per la vita e vorrebbe che fosse tutto perfetto ed impeccabile ed è chiaro che proprio la mancanza di tempo ed esperienza spesso non ci permette di vedere quello che potremmo avere ed ottenere dalla nostra abitazione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti